Oggi c'è un valore aggiunto in questa unità, perché l'unità è vera e perché questa discussione ci ha portato a superare gli errori che abbiamo compiuto nel passato, cioè quelli di presentarci negli ultimi dieci anni per due volte divisi regalando la regione ai nostri avversari. Questa volta ciò non è accaduto e qua abbiamo fatto un'ulteriore scelta, quella di semplificare le varie liste, il DC, il PSL, l'Alfa Italia, i Verari, le partite IVA, abbiamo chiesto a tutti loro di fare uno sforzo per andare all'interno di una lista, che è un'altra lista, che esprime la sintesi di tutte queste liste e questi partiti e che concorre credibilmente a raggiungere anche essa il risultato.